La sua partecipazione a una festa di compleanno in una struttura occupata abusivamente sta diventando un caso politico. Lei cosa ne pensa e cosa vuole dire su questa vicenda? Mi meravigli che diventi un caso politico. Ieri sera ho partecipato a un compleanno di un caro amico a Via Manzoni, dove alla fine si è anche ballato. L'altro ieri ho partecipato al compleanno di un compagno, un nostro alleato, che ha deciso di festeggiare a mezzo cannone occupato. Per me non è una notizia. Però era una struttura occupata abusivamente. Per me non è una notizia. E che si faccia una festa di compleanno in una struttura occupata abusivamente è normale. Per me non è una notizia. Sindaco, ritornando alla città, diverse forze politiche, a volte anche l'opinione pubblica che dici che cosa è una notizia, diverse forze politiche le contestano il trenino invece di pensare... Sì, però basta. Abbiamo già risposto. No, il trenino, l'immagino del trenino. Il trenino, io vi do... Ma non è una notizia. Quelle sono cose che si fanno in un compleanno. Adesso siamo nel mondo dei social. Siccome io sono uno che non si vergogna delle cose che fa. Quindi se lei mi chiede rifarebbe quello che ha fatto, rifare esattamente quello che ho fatto. Io vivo la città dalle 8 del mattino alle 2 di notte. Quella sera, dopo una giornata piena di lavoro, se volete proprio sapere la verità, c'era bella gente. Bella gente come bella gente ho trovato in tanti altri centri occupati. Sai quanti centri occupati ho visitato da quando faccio il sindaco? In tutta Italia, non meno di 30. Aspetto di andarne a visitare gli altri 30. Infatti non era questa. Perciò non riesco a capire quale è la notizia. Il trenino a luna di notte è un compleanno. Lei, di Costanza, mai partecipato ai compleanni? Io assolutamente sì, anche ai centri sociali. Ah, a me non va, questa è la notizia. Ah, è di Costanza che partecipato ai centri sociali, diciamo a De Benedetti. Quando partecipavo ai centri sociali non si facevano le feste di compleanno, si facevano i centri sociali. Non si faceva all'uso. Mi stai processando? No, io sono da me. No, sì. Sembra Stalin in questo momento. Ci conosciamo tanti anni. Lei assomiglia un po' a Stalin. Un pochino sì, forse sì. Senta, no, sono stato anche io frequentato i centri sociali e si facevano centri sociali. Si facevano, non si facevano feste private, di compleanno. È una festa di compleanno, è una festa di compleanno. Senta, io non ho più basso, per me non è un problema, gli ho già risposto. Faccio la domanda agli altri, se vuole mettermi in difficoltà, non mi metto in difficoltà. Ci sono andato, mi sono divertito. Ho stima dei ragazzi che lavorano ai centri sociali, che sono persone che fanno certe volte cose buone, altre volte cose meno buone, come il sindaco. Io ho creato nella nostra città un rapporto molto positivo con tanti ragazzi che animano i centri occupati, i centri sociali, i centri liberati. Abbiamo fatto le delibere dei beni comuni, ne ho visitati a decine in tutta Italia. Sono contento di essere andato a un compleanno perché io faccio il sindaco di Napoli, vado quando mi capi dai compleanni. Ieri stavo a Via Manzoni, c'era pezzi importanti della borghesia napoletana, non ho difficoltà ad andare a una festa di compleanno dove c'è la borghesia e una festa di compleanno dove stanno compagni che fanno un'attività di militanza al basso. Se lei mi vuole mettere in difficoltà su questo, non mi mette in difficoltà. Anzi, le dico che se mi invitano dopo domani a un'altra festa di compleanno in un centro sociale, per me non è una notizia. Sì, non sono domande, non sono nessun tentativo di metterle in difficoltà. No, ma voi cavalcate una cosa, ne volete fare un caso politico quando non lo è. Lei mi ha detto che questo è diventato un caso politico. Ci sono delle reazioni, quindi noi raccogliamo le reazioni che ci sono state. Ma mi conosce da abbastanza a sette anni, pensate che io non faccio queste cose. Le chiedo. Mi conosce da sette anni, ha mai visto indirizzo? Sai quante volte sono andato in quella mezza occupata? Sì. Tre volte. Ho capito, ma il compleanno è Gido Giordano, ragazzi, basta. Per me possiamo fare anche una tavola rotonda su questo, perché venite a nozze. Cioè, perché siccome io mi sono fin anche divertito quella sera, perché dopo una giornata di 13 ore di politica, stare a festeggiare un compleanno con dei ragazzi che tengo 50 anni, mi sono divertito. Punto. Se poi vi volete, dico difficoltà nel senso, mi dovete far dire che sono pentito, io vi dico se ci sarà domani un'altra festa di compleanno, che ne so, a nata parte, io ci verrò, se hanno il piacere, di invitarmi. Può essere pure dopo questa polemica, non mi inviterà più nessuno. Quindi dovrei occupare un centro occupato. Grazie.